Con l'inaugurazione della mostra d'arte contro guerra 2018, un segno di pace nel centenario della grande guerra a cura di Giuseppe Bacci, ha preso il via la settimana di arte e cultura del premio Cimitile nel complesso delle Basiliche Paleocristiane. Una mostra che offre la testimonianza attraverso la considerazione della tragedia della guerra, con prospettiva di superarla e non di renderla inevitabile, per cui alla luce di ciò l'arte diventa espressione vettore di speranza. Il presidente della Fondazione Premio Cimitile, Felice Napolitano. Il premio Cimitile celebra quest'anno la ventitresima edizione. 2018 rappresenta il ventitresimo anno di un ormai lunga e prestigiosa storia del premio. Una sfida che si rinnova ogni anno con lo stesso spirito che spinse un gruppo di giovani nel lontano 1996 a percorrere la strada della cultura, cavalcando la passione per la letteratura e il libro per promuovere e rilanciare quanto di straordinario la storia aveva lasciato sul territorio. Dopo la visita alla mostra, la serata è proseguita con la presentazione del libro Palazzo di Ingiustizia di Riccardo Iacona, edito da Marsilio. Per la prima volta raccontiamo il dietro le quinte della giustizia, lo facciamo naturalmente con dei documenti, con delle carte, grazie all'esposto che l'ex procuratore aggiunto di Milano Alfredo Robledo fece alla CSM. È uno sguardo che ci racconta che è sotto attacco l'autonomia e l'indipendenza dei PM e che c'è una partita importante su questo, i magistrati debbono e possono poter giocare. Alla presentazione sono intervenuti anche Elia Alaia, presidente dell'associazione Obiettivo Terzo Millennio, Felice Di Maio, lo sindaco di Mariglianella e consigliere delegato della città metropolitana, Maria Antonetta Ciaramella, consigliere della regione Campania, Vincenzo Maiello, docente di diritto penale presso l'Università Federico II di Napoli. Ha coordinato i lavori Ermanno Corsi, giornalista, scrittore, presidente del comitato scientifico del premio Cimitile.